La scuola di danze classiche Qualche piccola lieva particolarmente precoce può affrontare un facile passo, come in questa danza tirolese. Ancora per le più piccine la danza dei fiori e delle farfalle. A mano a mano che gli anni passano, subentra nelle giovani allieve qualcosa di meno fisico, qualcosa di cui la figura è il solo mezzo espressivo. Interpretazione.